Una volta sono salita a San Marco con uno studioso abbastanza noto, abbastanza riconosciuto, guardando Natasio nella villa di San Marco, quello si gira, gli improvvisi e fa ma questo non potrebbe essere altro che una villa imperiale o senatoria. Ma faccio così, di raro ma spontaneamente. Infine, cito la non meno significativa stazione della flotta di Miceno, insediata per almeno tre secoli nel grande porto di Stag, di cui abbiamo numerose testimonianze epigrafiche. Da un diploma militare, questo è un diploma militare in bronzo, è così piccolo, che i marinai ricevevano dopo il congedo, dopo l'onesto amizio. Da un diploma militare di questo semplice gregaris, cioè marinai, della prima legione a Diutrix, congedato sotto Galba nel 69, che si chiamava Diomedes, figlio di Artemonio, un friggio, e persino al comandante, Iurius Longuinos, uno dei dieci primi, cioè uno dei primi dieci di Miceno e di Stag nel quarto secolo, cioè abbiamo una cosa di primo e di quarto. Anchele vive sepulto, cioè sepulto a Stag. Comunque sia, tutto ciò sarebbe il senio della gran necessità di protezione del litorale stagiano, il quale ospitava proprietà di gente sicuramente di molti tipi. E quindi ringrazio a tutti per l'attenzione, per l'accoglienza, per la pazienza. È finita la mia piccola relazione.